Sì, buona idea. Sì, avrei il bagagliaio. Perché è bello? Perché deve prendere la borsa e vi sta facciando da me e da casa. Prendete la vita cattolica voi? No. Vita cattolica. Vero, ero? Mi ricordo che vediamo su una banca in terra. Il mese di interno, ma quella è la... Il vice di un papà è in terra. No sai fare tutto in nero? Sì, va. Sì, va. Ciao, Teo. Ciao, Teo. Ma che fai con la mia? Sì, che fai con la mia? Ma che fai con la mia? Sì, che fai con la mia? Sì, che fai con la mia? Sì, che fai con la mia? Adesso o vi stringete o vi stringete. Cioè, io ho alzato le mani e lei si gira. Sì, bravo, bravo. Dai, Teo, dai, Teo. Dai, Teo, dai, Teoli, dai. Dai, Teoli, dai. Dai, teori, teori, dai. Falle valide, mettili da urte. Fai il mese, la bionda. C'è il mese, ora devi stare qui. Da partire in saperone. Intorno al lanciatore. Tremesso, tre ore. Tremesso, tre ore. Tremesso da giro. Bene, bene, andiamo. Ciao, ciao. Dov'era Francesco con la mocia? Eh? Stiamo a dormire da Giorgia stasera, domani... Vai, 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 Matteo! A San Martino, quando sarà la scusa mi sto fermando, mi sto fermando, mi sto fermando, mi sto fermando e l'altra torre. L'altra torre, l'altra torre, la so. No, mi sono. No, mi sono. Mi sono. Mi sono. Voi. Voi. Ride lui il beato. Ah, perché ridi? No, è il tuo compleanno? Quella che dita gravi No Le dita gravi Sì, ma va bene Sì, devi toccargli le dita Sono anormali Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Oddio Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Dai, Gian! URRAAAA! Come fai ad arrivare il dipendero? Hai visto o no? Sì, io ti ho visto Oddio che le stanno gli anni Vediti... Stanno perdendo In macchina Mauro! Oh, senza! L'attrofitto è che tu ti riesi Uno, uno, Mauro! Tu ti riesi? Ah, ah... Sì, ma... Sì, ma... Ma che... Vosaglio! 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 Vosaglio!